Ebipro è l'ente bilaterale nazionale studi professionali, uno degli strumenti bilaterali che nasce dal contratto collettivo e che ha la funzione di erogare prestazioni di welfare a favore dei datori di lavoro, liberi professionisti e dei loro dipendenti. Sulla base dell'iscrizione Ebipro che avviene attraverso il pagamento di un contributo unico insieme a Catiprof che è la Cassa d'Assistenza Sanitaria per i lavoratori degli studi professionali, attraverso il pagamento di questo contributo unitario è possibile beneficiare per i datori di lavoro di una serie di servizi che vanno dal rimborso delle spese per la formazione in materia di salute e sicurezza sono i reghi di lavoro, la formazione in materia di privacy, di antiriciclaggio, è possibile ottenere per i datori di lavoro un contributo in caso di promozione dell'occupazione stabile, un vero e proprio strumento di politica attiva attraverso cui si riconosce un benefit, un contributo economico al datore di lavoro che decide di assumere comunque confermare a tempo indeterminato i lavoratori dei lavoratori in determinate condizioni. Si sostengono i percorsi di PCTO quindi di alternanza scuola lavoro con un contributo a favore dei datori di lavoro per le attività di tutoraggio e queste sono alcune delle prestazioni che riguardano i datori di lavoro libri professionisti e poi ci sono numerose prestazioni che riguardano i dipendenti che sono prestazioni di welfare che vanno dal rimborso delle spese per l'asilo nito rimborso delle spese per l'acquisto dei libri scolastici per i figli che frequentano la scuola primaria e secondaria rimborso delle tasse universitarie, rimborso delle spese sportive, degli abbonamenti per il trasporto pubblico un pacchetto di misure quindi a 360 gradi per tutti coloro che operano all'interno del studio professionale. Un ultimo aspetto, c'è nell'ambito dell'ente bilaterale poi anche una gestione chiamata gestione professionisti che è specificatamente dedicata all'assistenza principalmente sanitaria dei liberi professionisti e di cui possono beneficiare sia i datori di lavoro che i non datori di lavoro che possono liberamente acquistare e quindi accedere a questi pacchetti di assistenza sanitaria che vengono previsti dalla gestione.